Amici e amiche della Voce del Diavolo del canale YouTube Milan Elo, ben ritrovati. Dobbiamo essere contenti di questa partita col Manchester City. Chi vuole essere contento, sia contento, ci mancherebbe altro. Partita comunque divertente. Peccato che non fosse una partita, fosse una vera amichevole stile americano. Che è esattamente ciò che a me non piace, è questo stile americano che ormai impera a Milanello. Gli americani non hanno la nostra passione. Gli americani intendono lo sport in un modo diverso. L'unico sport che veramente di altissimo livello e con anche una passione sportiva dietro è proprio il basket. Altri sport, il baseball è il contrario per esempio. Il baseball del nostro amico cardinale è esattamente il contrario. Ma comunque, la paura, credo che ieri, parlando a Milanello qualcuno, qualcuno abbia detto ma era proprio necessario spendere i soldi per Morata. Abbiamo Colombo. Ecco, secondo me questo è l'approccio che noi dobbiamo combattere. In realtà, questa situazione di Milan molto particolare, paradossale, sta creando conflitti anche tra tifosi milanisti, tra quelli come me che sono perennemente arrabbiati nei confronti di questa proprietà, di queste due proprietà, e quelli che dicono, eh ma dai, rispetto ai tempi di Galliani è molto meglio, i tempi di Galliani ultimo periodo è molto meglio, rispetto ai tempi di Yongong Li, di Mirabelli è molto meglio. Sì, è vero, sì è vero, ma abbiamo fatto un percorso e adesso avremmo diritto a fare qualche cosa. Avremmo diritto, secondo me, a partire, a inizio campionato, essendo tra le favorite, non il dovere di vincere, il diritto di partecipare cercando di vincere. La domanda è, ma perché sei sempre un po' arrabbiato, ma perché te la prendi, perché non riesci a goderti anche un amichevole, ci la si potrebbe godere, non ci riesco, non ci riesco, vi spiego perché. Perché a Milan stanno succedendo delle cose che non sono mai successe prima nella storia. Facciamo, ora cerco a memoria di ricordarmene qualcuno, ne dimenticherò chissà quante. Sette derby persi, consecutivamente, senza aver mai rischiato di vincerne uno. Mai successo prima. Due derby di Champions, persi in un modo orribile, possiamo dire orribile, senza aver mai rischiato per un secondo di essere in lotta per qualificarci per la finale. Mai successo prima. Anzi, erano successe cose diverse. Due partite con la Roma, di quarti di finale di Europa League, una Roma più scarsa del Milan. Due partite non giocate. Assolutamente non giocate. Mai successo prima. Poi ci sono tante altre cose. L'assenza di un direttore sportivo capace. Capace di individuare, comprare giocatori, senza fare trattative estenuanti, dicendo sì, no, e sapendo quello che serve. Mai successo prima. Un fatturato mai alto come adesso. Mai stato così alto il fatturato del Milan, che è vicino ai 400 milioni. Mai successo prima. Secondo anno consecutivo di utili, utili di bilancio. Mai successo prima. Un'area tecnica formata da persone non competenti, non capaci nel settore. Cominciai da furlani. Grande manager, forse, non so. Penso, penso, dato il curriculum vitae, ma che di sicuro di calcio non ne capisce niente. Mai successo prima. Biglietti costosissimi, costosissimi. Biglietti costosi e abbonamenti, in qualche caso, raddoppiati. Mai successo prima di sfruttare così i tifosi. Vi ricordo la figuraccia che fece il Milan all'esodio in Champions due anni fa, tre anni fa, che dovettero rimangiarsi il comunicato sul costo dei biglietti, perché erano così alti che ci fu la rivoluzione. E basta. Dissero, ci siamo sbagliati. Mai successo prima. Neanche ai tempi di farina era successo quella cosa lì. Ma possiamo andare avanti a dirne tanti altri. Però questo è il succo. Questo è il succo. Siamo in mano a due proprietà, Elliot e Redbird, che non hanno come obiettivo quello di far stare il Milan laddove deve stare. Non si dà una frase tanto per dire laddove stare. È vero che non ci stiamo per grazia divina, ma ci stiamo per curriculum. Abbiamo vinto sette Champions, abbiamo vinto 19 Scudetti. Ce ne hanno rubati tanti, se no ne avremmo almeno due o tre chiarissimi, me li ricordo tutti. Almeno quelli che ho visto io, chiarissimi, me li ricordo tutti. Quindi potremmo già avere noi la seconda stella, invece dobbiamo vedere quegli altri, che ne hanno vinto qualcuno di troppo, avere due stelle, sbatterci in faccia lo Scudetto vinto a San Siro. Anche quello, mai successo prima di dare in casa nostra durante un derby consegnare lo Scudetto a qualcun altro, particolarmente a quelli lì. Ma perché siamo in questa situazione? È semplice il perché, ed è gravissimo il perché. Sappiamo tutti che, e lo sapevamo, che il post Berlusconi sarebbe stato difficile. Lo sapevamo. Un'epoca pazzesca, un'epopea pazzesca. La famiglia che chiede al Presidente di ritornare indietro, di smettere di perdere soldi, e non ne ha persi comunque i soldi della famiglia Berlusconi, sia chiaro, tutto compreso, non ne ha persi, ma comunque chi chiede di fare un passo indietro, il Presidente fa il passo indietro, c'è questa vendita, diciamo, non di classe, ecco, questa vendita in cui il Presidente non ha mostrato grande classe, mi spiace dirlo, la vendita a Yong Gong Li, questo cinese un po' atterrato da dove non si sa, proprietario di cose, non si sa, ma comunque con indietro dei capitali, forniti da altri, non da lui, comunque con indietro dei capitali a un certo punto si interrompe il flusso di questi soldi per diversi motivi, chi dice perché la Cina ha smesso di dare soldi, chi dice per altri motivi, comunque smette di dare il flusso e interviene Redbird, non Redbird, interviene Elliot, la famiglia Singer, per gestire e finalizzare questo passaggio traumatico tra il berlusconismo e il post-berlusconismo. Bene, fa bene Elliot, nel senso che fa bene come può fare un fondo, ma fa bene, crea le situazioni per un riassesto finanziario, cosa che quegli altri non hanno ancora manco iniziato, fa bene queste cose, ma viene ripagato da queste cose, viene ripagato perché i conti vanno in ordine, non ci sono spese, ci sono solo investimenti, vengono coperti i debiti, gli introiti comunque aumentano, perché il Milan è sempre il Milan, a un certo punto, Elliot quando è il momento di uscire, arriva la proposta di questo fondo arabo in Vescov e può tranquillamente uscire guadagnando, essendo remunerato per quello che ha fatto in quegli anni. Questo era il momento decisivo del passaggio tra il berlusconismo e il futuro. Cosa fa invece Elliot? Dice no, questo Milan è la gallina delle uova d'oro, possiamo spennarlo ancora un po', non vendo a Invescov perché Invescov pretende che entrando io esca completamente e quindi non posso più guadagnarci né oggi né un domani con aumenti di brand o anche per il discorso dello stadio, perché il Milan varrà di più. Quindi non esce, si inventa Elliot questa nuova proprietà Redbird, che è un fondo, come dire, niente da dire, ma che ovviamente, sappiamo, non mette soldi propri, non c'è un imprenditore che mette soldi propri. Questo 1 miliardo e 200 milioni viene diviso in tre parti, una parte rimane a Elliot, la metà viene fatta col vendor loan, che non è altro che un prestito di Elliot a Redbird, a Cardinale, che deve essere ripagato ogni anno e poi alla fine restituito tra un anno 600-620 milioni e poi i soldi raccattati da soci, da azionisti, da investitori che chiaramente vogliono un ROE, un return on equity, cioè un ritorno di quello che lo hanno investito. E quindi tutti questi soldi che devono essere, devono ritornare, gli investimenti, quindi gli interessi, da che parte arrivano? Arrivano dal Milan che produce, che produce interessi, che produce soldi adesso, ma che non vengono immessi nella gestione sportiva. Non mi sembra molto complicato il discorso, è banale, ma molti dicono, ma va, ma ti sbagli, non vedi l'anno scorso, abbiamo fatto la campagna acquisti, quest'anno vedrai, compreremo. A me non me ne frega niente se mentre faccio il video mi annunciano che è stato comprato questo o è stato comprato quell'altro. Non è questo, non è questo, è il concetto, è l'impostazione. Comunque, facciamo così. Io la penso in questo modo, accetto chi la pensi in modo completamente diverso, non c'è problema, è il bello del dibattito, però facciamo così. Non nel prossimo video, ma tra qualche video vi dimostrerò, proprio aritmeticamente, aritmeticamente con la, non si usano più, però con la calcolatrice, con la calcolatrice alla mano vi dimostrerò come questi ci dicono delle cose, ci fanno trappelare molte cose, ma poi assolutamente, assolutamente, non si comportano di conseguenza. Nel frattempo godiamoci questa calda estate e aspettiamo il campionato sperando, Dio mi sbagli, sperando che invece ci siano questi investimenti e sperando di poter finalmente cominciare un campionato non con una quota dei bookmakers a 7,5, Cioè, oggi se chi va a scommettere sul Milan metti 100 euro, se il Milan vince il campionato ne porti a casa 750. Ecco, io vorrei cominciare un campionato in cui tu metti 100 euro sul Milan per vincere il campionato e se vince ne porti a casa 250, 300, non 750. Quello si chiama KPI, Key Performance Indicator, un modo per capire la situazione in cui siamo. Ciao a tutti!